Con il loro impegno hanno costruito scuole, difeso la salute e salvato paesi. Gesti incredibili, imprese straordinarie, dei veri e propri miracoli. Ed è per questo che per noi so... Scusa, si può chiudere la finestra? Fa un po' freddino. Non servono miracoli per cambiare le cose, basta essere straordinariamente normali. Sicurezza nelle scuole, recupero di spazi abbandonati e diritto alla salute sono solo tre degli obiettivi di cittadinanza attiva. Insieme si può fare, scopri le nostre storie e diventa anche tu straordinariamente normale.